musica 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 al culo va oh c'è l'elicottero si ok odio l'elicottero ma vieni qua che sono da solo sulla bomba allora come cazzo si gira così ma io vi maledico figa mamma mia odio aspetta sto portando l'elicottero ma che cazzo me ne frega zitto allora c'ho l'elicottero mamma mia lo parcheggio una crema no no non andare in stallo non andare in stallo mamma mia aspetta lo porto sull'altro tetto come hai fatto a far stallare l'elicottero no 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 pensavo che andava in stallo aspetta aspetta che ho fatto una curva perfetta oh mio dio quanto sono pro aspetta che lo sto portando giù oh mio dio no oh mio dio no no dove cazzo sta atterrando no tirati su tirati su no si è impennato va benissimo allora che ho fatto aspetta nascondiamolo no merda non riesco a parcheggiarlo ogni volta che lo parcheggio si alza no uno è entrato nel mio elicottero cioè non ha capito quello che sta succedendo infatti si è parecato no non ci riesco non ci riesco non ci riesco no 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 intanto sto buffando gente di xml vabbè ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ma si 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 Allora Dai a questi elicotteri Ma manca droga Dai raga, non so cos'è l'elicottero, su No, ma perchè? Ma perchè? Via, 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 via Come sono morto Come sono morto L'elicottero, no, lo sai guidare Si che lo so guidare l'elicottero Devi portarci la, non è difficile Ah dai, dai Vai, vai avanti, vai avanti Vai avanti che ci sei, vai avanti Vai, vai, tranquillo lo parcheggio pure se siamo sgravi Eh, adesso Che cazzo ho tirato? Aspetta, aspetta, aspetta Allora, piano Quello si butta, ha già capito tutto No, no, va bene qua, va bene qua Vai, che c'è siamo Aspetta, lo metto un po' più avanti Oh, merda Eh, sì, perchè se no lo buttai giù E adesso si lamera No, non riesco a portarlo giù Cazzo, eh Pum, arriva un razzo Già me lo senti Dai, 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 dai Mamma mia, che atterraggio Che sgravo che sono Mamma mia, sgravo Let's go, bitches Piccolo epilogo del video Praticamente su Battlefield Affronterò dalla prossima settimana Quindi sotto le vacanze Eh, nuovi video come ho fatto per COD Quindi consigli sulle armi Classi Per come giocare E cercherò di fare una cosa Che volevo fare per COD Ma che poi ho lasciato Probabilmente spiegherò ogni arma Come funziona Come usarla al meglio Eh, dato che Su Battlefield Le armi variano molto Eh, spiegherò magari Quanto è il radio di fuoco La rosa Farò vedere Com'è la precisione Dopo quanto casca un proiettile Eccetera, eccetera Fatemi sapere se vi piacciono queste idee Metterò anche dei miei gameplay E non vedo l'ora magari Di poter fare qualche partita seria Anche su Battlefield Quindi vi saluto E fatemi sapere qui in un commento Ragazzi Bici Al prossimo video